Ciao ragazzi, oggi siamo tornati in questo nuovo video su Roblox, finalmente dopo non so quanti mesi, non so quanti anni, ciao, non so da quanti giorni, quindi andiamo subito su questo qua, Strangman Simulator, ed è una vita che io vado in questo, su Strangman Simulator. C'è una nuova stagione, nel prossimo video vi direi subito, nel prossimo video vi direi subito, se lasciate ben 5 like, nel prossimo video farò le missioni, quelle che mi chiederanno, ma non tutte perché sono troppe e anche lunghe. Quindi scrivetemi subito per fare questa missione, forse... ok sono neanche classifica io riega dovrei avere anche l'auto io riega è infatti posseduto è posseduto però riega che ricordi ma adesso in italiano di gioco ma non è scusa la zona di gioco scusa dovrebbe essere la palestra ma io riega qua non riesco a spostare niente neanche qua credo nel cibo guarda riega vabbè adesso riega ci vediamo dopo quando ho fatto un po di esperienza ok riega ho fatto abbastanza esperienza non ho fatto un botto adesso prendiamoci infatti riega esperienza ci vuole comunque ho scoperto riega un bug ad essere io adesso sto bagno adesso funziona un male che fa avere un botto di esperienza io uso questo bug ve lo spiegherò nel prossimo video si ve lo spiegherò nel prossimo video di quando farò le missioni comunque ho scoperto adesso scoperto da un minuto potremmo già fare un miligione ma niente riega scusata devo già fare e da no che ce la faccio dai sono diventato più forte dai ecco andate a vedere il video che ho fatto di solo smash episodio andatelo a vedere molto bello per me e ho anche fatto un video di forte quindi andate anche a vedere quello che stai per caricare sul tubo andate anche a vedere quello vabbè riega non so non ho così tanto te o tre ce la faccio vabbè riega e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao